buongiorno bella gente visto che mezzo è le maniglie color scotch oggi ci facciamo un girettino diverso del solito bellissima sta bicicletta vecchia ma bella bella andare in giro di mattina in bicicletta proprio bello di scialle ma quasi quasi mi faccio fare un preventivo programmato ma secondo me mi ridono in faccia peccato che è a basso sennò ci venivo sotto stare col camper o gli diamo un'incatenata che non si sa mai gli estintori avranno bisogno di di un collaudo qualcosa sono sempre validi quindi c'è 10 barre passa di pressione e anche 11 scherzavo con figurella ma mica tanto ho detto no quasi quasi solo che sono chiusi chiaramente non è che diretta ci sta padella spagno i miei preferiti estate inverno autunno primavera sempre semplici sugo e aglio mi hanno detto che non devo mangiare davanti alla telecamera muo vai a cagher vè alla salute stessa una cosa non bella però certe cose le posso condividere con voi certe altre no certe cose sono mie private e personali alla salute vè arruttino veramente buoni l'aglio come si sposa l'aglio con il sugo ragazzi una volta parlai di una persona baracca scritto b a r a j a mi sbagliai su di lui una buona persona a volte ho detto un po' di parolacce su alcuni siti così ma su canali ma invece una gran persona ma invece una gran persona si e maria sempre l'ambulanza quando ci sono io porca miseria come poi mi porta via con la camicia di forza speriamo poi ecco oggi sono stato basso con le dosi eh 160 grammi mi rompete le beef e la dieta e la dieta penso 5 kg non me li posso permettere padella finita birriamoci la birra dai 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 chi è che non beve birra chi è che non beve birra alzi la mano tu non bevi birra alla salute un'altra volta e te credo che i tedeschi ne bevono tonnellate di birra così buona poi loro hanno la birra migliore che c'è secondo la mia opinione personale mi dispiace l'idea di vendere il nonno mi dispiace parecchio me l'avevano detto che il primo camper è sempre qualcosa che ti rimane nel cuore ho avuto qualche offerta così ma niente di serio ancora forse andrò in un concessionario e sentirò eventuali proposte magari boh magari ci metterò dentro 1500 euro si vive bene in camper ragazzi altro che molti pensano che ci siano queste grandi difficoltà ma non è così non è così oh scusate ma ho mangiato ho bevuto che mi frega ma mi metto mi faccio un pisolo sicuramente mi sveglierò quando arriva il sole perché in questo momento in questo punto qui c'è ombra quando arriva il sole ti svegli quando arriva il sole non c'è nera raga non so se avete fatto tender blot così ma neanche 40 minuti di pennichella caldo ultimo a calare il campo mamma mia brutta roba ci vuole il condizionatore altro che ciao bella gente vi do un bacione e ci vediamo alla prossima puntata di camperjohn ciao ciao